Senza pace l'iter per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valenza. Non sono bastati gli entoppi burocratici, la poca propensione politica per realizzarlo, i disguidi inerenti alla bonifica del terreno, quelli legati alla falda acquifera, i ritardi dovuti a mille vicissitudini. Ora un'altra tegola si abbatte sul cantiere. Infatti i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valenza hanno provveduto al sequestro preventivo dell'area di cantiere inerente le opere di viabilità complementari alla realizzazione del nuovo ospedale che si estende per circa 10.000 m2. Il sequestro è scaturito in seguito a ordinari controlli in materia di regolare esecuzione di lavori pubblici effettuati proprio nel cantiere. Durante questa ispezione le fiamme gialle hanno accertato la presenza di numerosi materiali di risulta abbandonati su un'area che risultava compresa in una zona sottoposta a protezione archeologica per i quali nella società esecutrice, negli altri enti interessati nel cantiere cioè la regione Calabria, la superintendenza archeologica, Belle Arti e il paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valenza erano in grado di esibire le previste autorizzazioni necessarie per l'effettuazione dei lavori in loco. Perciò i finanzieri, per evitare che i reati venissero portati ad ulteriori conseguenze hanno provveduto al sequestro preventivo dell'area a Monte della Statale che porta a Vibo Valenza. Intanto, mentre si cerca di accertare le singole responsabilità in ordine ai reati di abbandono incontrollato dei rifiuti e danneggiamento al patrimonio storico archeologico nazionale e di verificare la regolarità dell'appalto di esecuzione delle opere di viabilità complementari aggiudicato per un importo di oltre 5 milioni di euro i lavori nel cantiere vero e proprio dell'ospedale continuano in modo da rispettare le tabelle di marcia previste.